Sì, questa mozione a cui tengo particolarmente tratta di una patologia molto complessa, la fibromialgia, che è una sindrome complessa caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico cronico diffuso nell'ambito delle sindrome da sensibilizzazione centrale, sindrome che segna la vita di tante persone. Si stima infatti che abbia una frequenza intorno al 2-5% della popolazione generale e che accompagna il 20-30% della patologia aromatica, con soggetti particolarmente colpiti come le donne, con un'età compresa tra i 25 e i 45 anni. Brevemente spiego di cosa si tratta. A base della sindrome fibromialgica ci sono processi di sensibilizzazione neuronale, sia centrale sia periferici, con alterazione della percezione del dolore, caratterizzate da una diminuzione della soglia nocicettiva e un'interazione con fattori neurologici, alterazioni neuroimmunologiche e neuroendocrine, con fattori genetici e psicosociali, comportando l'insorgenza quindi di una sintomatologia dolorosa, diffusa, associata in varia misura ad astenia, disturbi del sonno, ansia e depressione. Pure una sindrome così complessa è un'entità clinica specifica, la cui diagnosi è codificata da criteri diagnostici validati internazionalmente. La diagnosi è prettamente clinica, in quanto non esistono biomarkers di laboratorio specifici o appunto indicatori chimici specifici dell'esistenza, della manifestazione di questa patologia, per cui le indagini cliniche che vengono fatte servono ad escludere altre patologie. Non esiste neanche una terapia unica per il paziente fibromialgico, in quanto l'approccio a questa malattia è multidisciplinare, multimodale e comprende quindi terapie che vanno da terapie psicologiche a terapie farmacologiche, ma anche non farmacologiche, come spesso una specifica attività fisica. È importante a questo punto, e ciò che sottolineo in questa mozione, la creazione di una rete integrata di medici, di medicina generale, di specialisti e di personale sanitario che si occupi di questi malati e di questi pazienti, si prenda in carico i pazienti e questa rete, diciamo, di un team multidisciplinare è un punto d'arrivo molto importante per la presa in carico del paziente. Ad oggi il sistema sanitario nazionale non prevede forme di riconoscimento della fibromialgia, non è infatti inserita nell'elenco delle malattie croniche che danno diritto all'esenzione. La sindrome da tempo è però all'attenzione del Ministero della Salute che sta valutando il suo possibile inserimento tra le malattie croniche invalidanti. È vero che in molte regioni è stato attivato un percorso di presa in carico del paziente fibromialgico e sono già avanti queste regioni da questo punto di vista rispetto alla nostra, come la Toscana, per esempio, il Fliuri Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, Basilicata, Marche, Sardegna e la Toscana che ha effettuato e definito i PTTA molto recentemente. Io vado a concludere perché voglio porre l'attenzione su cosa va a chiedere questa mozione e su cosa va a impegnare l'Aggiunta. Si chiede un tavolo tecnico finalizzato all'apertura di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali con la costituzione di un team multidisciplinare specializzato. Si chiede all'Aggiunta di attivarsi in sede di conferenza Stato-Regioni affinché siano approvate le norme per il riconoscimento della fibromialgia con relativa iscrizione nei LEA e ad assicurare ed avviare sul territorio regionale la cura alla continuità terapeutica ai pazienti fibromialgici e a sviluppare un percorso clinico-gestionale attraverso interconnessione delle reti reumatologiche di terapia del dolore. Quindi in sostanza si chiede alla Regione e al Consiglio regionale di impegnare l'Aggiunta affinché si attivi perché il paziente fibromialgico nella sua complessità venga preso in carico quindi da un team multidisciplinare che la Regione e quindi l'assessore si attivino a livello Stato-Regioni perché questa malattia venga riconosciuta a livello nazionale perché quello è il punto focale e centrale di tutta la gestione della malattia riconosciuto quello è poi possibile attivare il LEA e poi a fine avviare appunto sul territorio regionale la cura la continuità assistenziale a questi pazienti che sono tanti, subiscono e hanno la vita segnata da questa malattia che ha avuto un percorso anche di diagnosi e di terapia molto complesso e molto difficile però appunto è del tutto riconosciuta e validata a livello internazionale. Grazie